Sarà il 18 gennaio il primo giorno di somministrazione della seconda dose di vaccino per il coronavirus. Dopo le prime somministrazioni di domenica 27 dicembre, prende sempre più forma il calendario della campagna vaccinale nel territorio di competenza dell'Ausro Romagna. Sono stati 225 gli operatori sanitario romagnoli che hanno ricevuto nel primo giorno la prima dose di vaccino, 70 gli operatori ravennati. Si tratta delle squadre di vaccinatore e della cabina di regia incaricate di gestire la campagna di vaccinazione. Come ha sottolineato la stessa Ausle in questi giorni, per una protezione completa dell'individuo è necessario aspettare la seconda dose, ma è anche vero che già dopo la prima somministrazione c'è una forte risposta nella produzione degli anticorpi necessari. La campagna di vaccinazione a tutto il personale sanitario, agli ospiti e gli operatori delle strutture per anziani proseguirà nei primi giorni di gennaio. Per la Romagna si parla di 20.000 persone, poi probabilmente a febbraio inizierà la campagna su tutta la popolazione. In previsione di questa seconda fase, l'Aus Romagna sta studiando nuove sedi vaccinali. È già sicuro che la provincia di Forlì-Cesena a gennaio avrà due sedi per la vaccinazione del personale sanitario nei due centri capoluogo di Forlì e Cesena. Ravenna invece rimarrà al momento con l'unica sede del Pala di Andrè. Per la seconda fase invece sia la Bassa Romagna sia la Romagna feintina hanno candidato delle sedi. Adesso spetterà la dirigenza dell'azienda sanitaria valutare le difficoltà logistiche. Faenza, dopo l'esperienza del vaccino anti-influenzale, ha candidato il centro fieristico. Qui bisognerà allestire i passaggi ideati per la somministrazione del vaccino, pensati per evitare contemporaneamente assembramenti, le postazioni frigo e approntare un'aria per consentire il parcheggio degli utenti. Durante la seconda fase la vaccinazione sarà consigliata anche a coloro che in questi mesi sono risultati positivi al coronavirus.